Il bentornato al dottor Gabriele Benedetti, bentornato, che bello rivederti, ringrazio anche la tua paziente Diana, grazie anche a te per essere qui con noi, perché oggi dobbiamo capire esattamente quali sono i trattamenti che ci offre l'osteopatia e la fisioterapia per combattere i sintomi, il dolore che ci può dare la scogliosi, però facciamo un passo indietro perché noi vogliamo capire che cos'è la scogliosi, caro Gabriele. Allora, ciao Monica, vedi che ho portato questo modellino dove la parte blu in particolare fa vedere un'importante deformazione, perché la scogliosi è un dismorfismo, quindi una patologia degenerativa che porta le nostre vertebre in gruppi veri e propri a fare delle inclinazioni da un lato, a fare delle flessioni, ma soprattutto pericolosissimo delle rotazioni. Le rotazioni che vedi in questo caso delle vertebre fanno il movimento di torsione e questo crea quindi questa importante deformazione. Possiamo vederlo... Gravità anche, perché come facciamo a capire, no Gabriele, la gravità di una scogliosi? Allora guarda, ti faccio vedere subito, vedi che ho portato un goniometro, maggiore è la curva, ovviamente maggiore sarà la gravità. Ma c'è una gradazione importante che spesso nelle lastre vediamo come gradazione di Cobb. Significa che, io ti faccio vedere, ecco questo esempio qui fa vedere la nostra gradazione, intorno ai 10-20 gradi, quindi più o meno siamo a questa gradazione qui, abbiamo un tipo di scogliosi meno grave, moderata, che normalmente riusciamo a gestire con la fisioterapia. Quando invece aumenta la gradazione, quindi tra i 22 gradi e i 50 gradi, si comincia a parlare di una scogliosi importante, dove la fisioterapia è rilevante nell'aiuto, ma potrebbe essere necessario il busto, mentre invece superati i 50 gradi, vedi che parliamo di qualcosa di molto serio, qui addirittura è necessario l'intervento chirurgico. Allora, però noi siamo, come dire, ottimisti, vogliamo parlare esattamente di quella scogliosi non grave, che però porta tanto dolore, che compromette anche la qualità della nostra vita. Quali sono le terapie? Adesso sfruttiamo proprio Diana in tutto e per tutto. Sì, sì, ti faccio vedere un test importante che potremmo anche vedere a casa, quindi potremmo anche ricrearlo a casa. Ti puoi flettere in avanti, quando ti parlavo, lascia cadere la testa, esatto, va bene così, ferma così, quando ti parlavo della ruotazione delle vertebre, le vertebre ruotando portano con sé purtroppo anche le coste, quelle comunemente appunto chiamate costole, e questo fa sì che si crea il gibbo, si va a creare questa gobba purtroppo, questa importante deformazione, che possiamo anche, in realtà ho scelto Diana perché c'è già un piccolo gibbo e ti farò vedere appena la pallina si ferma, momento di suspense che arriva, eccola, si ferma a 5 gradi. Proviamo a aumentarla un pochino di più, eccola qua, vedi che il gibbo fa muovere la pallina e questo scoliometro è molto importante per me, perché io normalmente faccio le foto ai pazienti del prima e del dopo, esatto, e poi ne vedremo una di foto. La vedremo assolutamente e infatti qui mi dà un parametro iconico molto importante per capire apposta che c'è un gibbo, una deformazione, quindi questo è un test dove a casa, magari facendoci osservare da mamma, da zia o da un amico, possiamo vedere che ci sia una rotazione del lato, fa capire che la scoliosi è entrata in torsione, in spirale e quindi comincia a essere importante. Importante, per cui dovrebbe essere subito trattata. Assolutamente. Allora, iniziamo a capire, perché questo è il test di valutazione che serve a te, perché ci sono anche tanti trattamenti da poter fare. Noi oggi ne faremo vedere alcuni in diretta. Allora, i trattamenti riguardano tutta la nostra colonna, Gabriele? Bravissima, tutta la colonna, potremmo anche poi spostarci addirittura sull'anca, ma oggi quella che è la base su cui si poggia tutta la nostra colonna è proprio il bacino. Quindi il primo trattamento sarà sul bacino, che potrà risultare inclinato, ruotato. Primo intervento lo faremo lì. Vogliamo ricordare anche, Gabriele, scusami se ti ho interrotto, che la scoliosi è comunque una patologia che riguarda sia grandi che piccini. Assolutamente. Sia anziani, sia bambini, a tutte le età. Anche perché vediamo, insomma, Diana è giovanissima e già soffre di una scoliosi. Per cui lì bisogna intervenire. E parliamo di una degenerazione che ha proprio diversa importanza poi e carattere nelle diverse età, perché nel bambino può essere pericolosissima e aggressiva, nell'adulto può portare a molti dolori, nell'anziano che perde muscolatura continua a degenerare e può peggiorare proprio la forma del nostro corpo. Vediamo subito il primo trattamento che riguarda il bacino. Il primo trattamento e la base su cui porterò tutti i trattamenti oggi è proprio quella di andare a interrompere il fulcro, cioè invertirlo, perché lì c'è una torsione. Io andrò a fare questo. Partiamo proprio dal bacino. Quindi l'articolazione in questione è quella tra il liaco e sacro che abbiamo qui. Io posiziono il paziente. No, no, faccio tutto io, non mi aiutare. Brava. Ti rilassi. Comoda, comoda. Questa è l'articolazione che tende ad essere bloccata. Quindi adesso ti farò vedere proprio il movimento con cui la vado a sbloccare. Lascia cadere le gambe, inspira, fuori l'aria e ti rilassi. Ahia. No, scusa. Non ero più abituata. Scusa Gabriele. Passano gli anni ma tu non ti abituis. No, adesso cercherò di star zitta perché sennò magari in realtà non hai sentito nulla. Ma lo sai che ogni tanto i pazienti a casa me lo dicono. Ma Monica si spaventa sempre, si spaventa sempre. Mi spavento sempre, però sto zitta adesso. Però non fa male. Non fa male, sì, 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 non fa assolutamente male. Bene. Allora, questo è il primo trattamento per sbloccare il bacino. E normalmente sono, pensa, una mappatura molto pratica. Il protocollo prevede trattamento sul bacino immediatamente lombare di compenso. Quindi giriamoci dall'altra parte. Sì, Gabriele, ci dobbiamo sbrigare. Perché mi hanno detto, tu non lo vedi, ma dietro le quinte che abbiamo solamente tre minuti. Faccio vedere tutto. Per cui io sto zitta e fai tu. Gira da questo fianco, vieni. Perché se no faccio perdere tempo. Vai. Stendi le gambe. Bravissima. Questo è il trattamento che faccio lombare. Benissimo. Lasciati cadere completamente. Vedi che questo è il fulcro che ci interessa. Lascia, lascia le gambe rilassate. Bravissima. Fulcro in questione. Ed eccolo che entra alla perfezione. Ottimo. Ti faccio velocissimo, perché poi mi interesserà molto quello cervicale. Lo sblocco che riguarda le dorsali e che ha a che fare con il nostro... Gibo. Gibo, esatto. Il nostro hump che abbiamo a questo livello. Quindi mi posiziono sul costato, giù le gambe. Ti rilassi del tutto, inspira. Fuori l'aria. Brava. E proprio sul costato interveniamo così. Ok. Adesso facciamo vedere la cervicale, che è la zona che ti interessa, che interessa tanti nostri telespettatori. Perché anche in questo caso, oltre a curare il dolore della scogliosi, curiamo anche il dolore che molto spesso si ha alla cervicale. Le degenerazioni portano anche a discopatie, logicamente. E quindi fatto bacino, lombare e dorsale, chiudiamo con l'ultima curva di compenso, che è quella cervicale. Rilassati del tutto. Bravissima. Ferma così. Abbandona tutto. Bravissima. E la chiudiamo. Questo è il trattamento che interviene appunto su tutti i fulcri. Allora, questa è l'ostopiatia. Però noi vogliamo capire anche la fisioterapia. Tu hai portato uno specchio qui, no? Esatto, e uno sgabbello. Perché è un test che si può fare anche a casa, Gabriele? Sì, anzi, passo un attimo in piedi che lo facciamo vedere un secondo. Ci sono scogliosi importanti che oltre alla degenerazione che abbiamo nel corpo, portano a uno slittamento del bacino. Quindi il significato diventa anche estetico, oltre che clinico. E quindi da questa deformazione si insegna attraverso la fisioterapia a far lavorare con una sorta di tiraggio verso l'alto. Quindi immagina di vederti allo specchio e spingi verso l'alto e allo stesso tempo correggi con la muscolatura. Quindi questo movimento che stiamo facendo è l'autocorrezione. Che sommata alla genastica posturale di alto livello, riesce non solo a bloccare la degenerazione, ma addirittura a recuperare poi dei gradi negli interventi migliori. E questo si insegna al paziente. Quindi lo può fare da solo, lo può fare a casa, lo può fare il bambino a scuola, e soprattutto si può fare anche nel busto. Pensa quanto è importante. È importante. Vogliamo ricordare che questi trattamenti quanto durano? Insomma, basta una seduta, due sedute? Normalmente per il fisioterapista basta una supervisione di una volta al mese. Intervento con me, invece, manipolativo due volte l'anno. Seguito da lastre, seguito da tutto il monitoraggio che abbiamo visto fotografico. E poi il paziente deve fare anche questo esercizio a casa. E passano 5 minuti al giorno. Esatto. Però tu ci hai portato, io chiederei a Fabrizio Pieracci, il nostro regista, di mandarci in onda, ecco le foto che tu hai fatto del prima e del dopo. Esatto. Guardiamo la differenza, che è abbastanza significativa, no? Di un paziente trattato con osteopatia e con fisioterapia. Esatto. Questo è un trattamento che ha dato subito risultati nei primi sei mesi di intervento, perché dal grande slittamento che avevamo del bacino, visto anche con Diana, siamo riusciti poi a rimetterlo in linea. Quindi già visivamente è un risultato pazzesco. Esatto. Grazie. Grazie a voi. Dottor Gabriele Benedetti, grazie alla nostra bellissima Diana, grazie a tutti voi.